Hanno devastato il corpo sociale, piegato le menti, ammalato i corpi, hanno reso furiosi e disperati i più giovani, hanno incrinato famiglie, hanno rovinato comparti produttivi, hanno distrutto la filiera turistica, hanno annichilito i centri cittadini che vivono di commercio, hanno condannato a morte mezzo milione o un milione e non si è mai saputo davvero di attività, hanno illuso chi lavora con bonus mai arrivati o umilianti, hanno provviziato la logica, mentito senza ritegno, paralizzato scuole, uffici, ospedali, falsificato i dati, fatto sparire i cadaveri, qualcuno addirittura gettato tra i rifiuti riciclabili un cuore che non si vedesse come il vaccino lo aveva rovinato, hanno ricattato, obbligato a pungersi, a oltranze, risi menomati, ingiuriati i defunti, fatti furbi sui dispositivi, sulle maschere, sui bancchi a rotelle, sui tamponi, sui presidi, hanno fatto scendere donne sole la notte da un treno per un lascia passare scaduto, hanno punito i lavoratori, hanno mandato a picchiare chi manifestava, hanno impoverito i poveri, hanno scatenato lutti e tragedie, hanno mentito, 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 non ti vaccini, ti ammali e ti ammazzi, il lascia passare serve a non contagiare, pazzi i cialtroni hanno diffuso una disperazione che non andrà più via, dopo la farsa seguita al covid io non ho più smesso di raccogliere il rilamento degli offesi sulla pelle e oltre la pelle, più in fondo, fino all'anima, non so cosa mi succede ma non sono più quello di prima, sento una stanchezza malata che mi prosciuga, mi svuota e non potrò tornare ad essere chi usavo a essere, si è rotto qualcosa che non so come aggiustare, non ho più voglia di vivere e ci senti la vergogna dell'animale torturato o del popolo ripudiato cui è stato inflitto un destino crudele e ingiusto, non erano solo mitomani e non erano solo incapaci, mentivano e lo facevano con determinazione. Grazie. Grazie. Grazie.